Benvenuti a questo video dedicato a Lucchi Novisconti, uno dei registi più influenti del cinema italiano. Esploreremo la sua vita personale, il suo lavoro e alcune curiosità affascinanti su di lui. Lucchi Novisconti è nato nel 1906 a Milano, Italia. Fin dalla giovane età, ha dimostrato una passione straordinaria per il cinema e le arti visive. Nel corso della sua vita, ha creato opere cinematografiche iconiche che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Il suo lavoro più noto è stato nel campo del cinema neorealista e del cinema d'autore. Ha diretto film indimenticabili che hanno affrontato temi sociali e politici con grande sensibilità e profondità. Ha collaborato con alcuni dei più grandi attori e attrici del suo tempo, portando alla vita personaggi indimenticabili sullo schermo. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, Lucchi Novisconti aveva anche una vita personale ricca e interessante. Era un grande appassionato di teatro e spesso dirigeva produzioni teatrali di successo. Amava trascorrere il tempo nei teatri, immergendosi nella magia della recitazione e della performance dal vivo. Una curiosità affascinante su di lui è che era anche un grande collezionista d'arte. Amava visitare gallerie d'arte e collezionare opere di artisti famosi e emergenti. La sua passione per l'arte visiva ha influenzato il suo stile cinematografico e ha arricchito le sue opere con una profondità visiva straordinaria. Lucchi Novisconti è stato un visionario nel mondo del cinema, con una sensibilità artistica unica e una capacità di catturare l'essenza della vita umana sullo schermo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e il lavoro di Lucchi Novisconti. Alla prossima! Benvenuti a questo video dedicato a Lucchi Novisconti, uno dei registi più influenti del cinema italiano. Esploreremo la sua vita personale, il suo lavoro e alcune curiosità affascinanti su di lui. Lucchi Novisconti è nato nel 1906 a Milano, Italia. Fin dalla giovane età, ha dimostrato una passione straordinaria per il cinema e le arti visive. Nel corso della sua vita, ha creato opere cinematografiche iconiche che hanno lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Il suo lavoro più noto è stato nel campo del cinema neorealista e del cinema d'autore. Ha diretto film indimenticabili che hanno affrontato temi sociali e politici con grande sensibilità e profondità. Ha collaborato con alcuni dei più grandi attori e attrici del suo tempo, portando alla vita personaggi indimenticabili sullo schermo. Oltre alla sua brillante carriera cinematografica, Lucchi Novisconti aveva anche una vita personale ricca e interessante. Era un grande appassionato di teatro e spesso dirigeva produzioni teatrali di successo. Amava trascorrere il tempo nei teatri, immergendosi nella magia della recitazione e della performance dal vivo. Una curiosità affascinante su di lui è che era anche un grande collezionista d'arte. Amava visitare gallerie d'arte e collezionare opere di artisti famosi e emergenti. La sua passione per l'arte visiva ha influenzato il suo stile cinematografico e ha arricchito le sue opere con una profondità visiva straordinaria. Lucchi Novisconti è stato un visionario nel mondo del cinema, con una sensibilità artistica unica e una capacità di catturare l'essenza della vita umana sullo schermo. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e il lavoro di Lucchi Novisconti. Alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!